Un uomo ha comprato una casa nuova e ha iniziato a scandagliare gli angolini più nascosti dell'appartamento quando ha notato un piccolo particolare passato inosservato al momento dell'acquisto. Incuriosito si è avvicinato e ha trovato una botola misteriosa. Potrebbe essere l'inizio di un film horror, ma è la vera storia di un utente di Igmoor che ha postato sulla community alcune foto e filmati decisamente terrificanti almeno a prima vista. Dietro al deposito degli attrezzi infatti ha scorto un tunnel che conduceva direttamente ad un sotterraneo nascosto, risalente come ha preso in seguito ad un monastero del XIX secolo. Se i più suggestionabili stanno pensando che questa scoperta potrebbe davvero essere il prologo di una pellicola da brividi, il proprietario invece ha pensato di aver speso molto meno del valore reale dell'immobile e di voler realizzare un on-video in quegli spazi inquietanti.